Questa è una lattina di Guinness per Surger Unit, praticamente non ha la pallina dentro per fare la schiuma Surger Unit E quindi come si fa a fare la schiuma? Con questa, la Surger Unit Come funziona? Praticamente si mette il bicchiere con il software con dentro la Guinness, sopra la Surger Unit E la Surger Unit manda un impulso di intrasuoni, ad ultrasuoni Voilà, che si sta formando la schiumetta Grazie 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 non male